e si riapre qui un'altra puntata di Fanny Moon con un trio d'eccezione con la mia e bella e simpatica conduttrice Angela Azzurra e Maria Rosaria Maria Rosaria che abbiamo conosciuto tempo addietro adesso è anche una nuova conduttrice di Fanny Moon ma a proposito, a proposito, lo sproposito tu sai perché è iniziata ed è entrata qui con noi Maria Rosaria perché è un'attrice ma mi hai perdonato, sei venuta allo spettacolo, ti sei divertita? certo, non potevo non perdonarti dopo l'invito a questo spettacolo faccio i complimenti anche a Maria Rosaria perché è stata brava, brava, brava no, no, per niente, per niente ma la nostra selvaggia e poi cosa dire, sono venuti in tanti grazie a Fanny Moon, a voi che mi avete fatto una bellissima promozione ma per tutti coloro che vorranno vedere lo spettacolo e non hanno avuto l'opportunità di venire cosa devono fare? devono guardare il servizio subito dopo eh, benissimo, benissimo, qualche info la vogliamo comunque dare, veniamo a bomba voi avete dato quelle nuove, io vado a ricordare quelle vecchie per tutti i miei fan, cioè volevo dire per quelli che sono incuriositi di vedere questo servizio possono mandarci un messaggio, possono contattarci al 333-333-8693 oppure stavolta gliela do nuovamente ai nostri spettatori ma cosa, cosa, la famosa mail, la famosa mail ovvero infochiocciolafannymoon.it e cosa rimane da dire? sommario bravissima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti